Radio S Energy is on Il piacere di fare musica Da Sorrento alle giornate professionali di cinema Reduce dalla convention Medusa Abbiamo Ricky Memphis Che è uno dei protagonisti del Nutrito Cast di Immaturi Già il titolo dice qualcosa In parte perché poi è un titolo Volutamente ambivalente Ci puoi dire? Abbiamo visto qualcosa Nel trailer del suo personaggio? Ti dico, il personaggio mio è Lorenzo Che è un agente immobiliare Totalmente immaturo Che ha deciso di rimanere a vivere Alla venerante età di 40 anni Insomma 38-40 anni Ancora a casa con mamma e papà È felicissimo di vivere con mamma e papà È un vitellone puro Un vitellone convinto Che però poi nell'arco del film Rincontrerà una vecchia fiamma E metterà un po' in discussione tutto quanto Si riconosce in qualche modo Nel ruolo, in alcuni aspetti Del personaggio In tal caso come ha preso Su quali corde ha costruito Ha lavorato per No, non mi riconosco del personaggio Io sono andato via da casa presto Pur rimanendo sempre vicino Insomma, una famiglia d'origine Ma sono andato via da casa presto Ho le spalle già un matrimonio Io ho un altro matrimonio adesso con un figlio L'opposto L'opposto, assolutamente l'opposto Credito appunto nella coppia, nella famiglia e tutto quanto Niente, le corde non... Così è un personaggio, non è un personaggio difficile È un personaggio brillante In una commedia con un cast bellissimo Diretta benissimo da Paolo Genoese Quindi è stato semplice Aspettiamo... Allora, intendiamo di vedere il film Intanto le faccio un bocca al lupo Per tutto e complimenti Grazie Grazie